Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Pronto il decreto Ristori Bis, aiuti concreti per imprenditori e professionisti per far fronte alla crisi economica. Finalmente i marittimi, dopo la denuncia ai microfoni di TV City, rientrano nel piano vaccinale. Sembra che la situazione si sia sbloccata e si procederà per fasce d'età. Una preghiera speciale per gli ammalati di Monsignor Nicola Longobardo che mostra ai fedeli la teca con il sangue di San Gennaro. Spazio anche alla cronaca, in manette un finanziere che costringeva commercianti a pagare ingenti mazzette. In chiusura il degrado nella zona porto di Torre del Greco, aiuole ed erba incolta. Difficile anche il passaggio pedonale. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Via libera di Camera e Senato al decreto sostegni. Queste le principali previsioni per supportare professionisti e imprenditori colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica. Ok al rinvio scadenze per i professionisti col Covid. Il testo stabilisce che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione per motivi connessi al Covid, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque un adempimento. Le scadenze, si legge, vengono sospese a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria. Gli adempimenti congelati dovranno essere eseguiti al professionista entro i sette giorni successivi a quello di scadenza e il termine del periodo di sospensione. Stop prima rata IMU con calo 30% del fatturato. Chi ha un'attività in perdita non dovrà pagare la prima rata dell'IMU. Le commissioni bilancio e finanze del Senato hanno approvato un emendamento riformulato che prevede per chi ha cali di fatturato del 30% rispetto al 2019 l'esonero dal pagamento della rata IMU di giugno sugli immobili, sede dell'attività di cui sono proprietari e gestori. Fondo ai separati in difficoltà col mantenimento. Si tratta di un fondo ad hoc per aiutare i genitori separati o divorziati che hanno difficoltà a garantire l'assegno di mantenimento. Stanziati 10 milioni per il 2021 per l'erogazione di una parte o dell'intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese. Per locali, stop tassa, tavolini e canonerai. Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell'esenzione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico e niente pagamento del canonerai per alberghi e i locali pubblici che hanno dovuto chiudere. Fondi a comuni per evitare seggi nelle scuole. Occorre quindi trovare, in vista della tornata elettorale d'autunno, locali da adibire asseggi alternativi alle scuole. Più tempo per utilizzare i voucher per i viaggi esaltati causa Covid. Si prevede anche che questi voucher possano essere ceduti alle agenzie di viaggio. Resta fermo il rimborso al termine dei 24 mesi se il voucher rimane inutilizzato. Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro. Dopo la denuncia ai microfoni di TV City sull'impossibilità di prenotarvi per eseguire le vaccinazioni, qualcosa si è mosso. C'è stato l'impegno di alcuni rappresentanti della politica. Ora è possibile per voi prenotarvi per i vaccini? Ora i over 50 e i 60 possono prenotarsi sulla piattaforma per fare il vaccino. Noi ringraziamo perché ho visto pure un consigliere già della Campania, consigliere Loretana Rai, tornati di nuovo sul territorio della Campania, ironicamente perché? Perché l'abbiamo chiamato i 50 volte per risolvere questo problema, già da 40 giorni, ma non ha mai risposto al telefono, ma ci ha fatto piacere che è ritornato di nuovo in Campania. Quindi la situazione di fatto si è sbloccata? Per il momento si è sbloccata per i 50 e i 60 anni. Io penso che si dovrebbe sbloccata anche per gli altri marittimi che non stanno solo i 50 e i 60 anni sulle navi, di cominciare a fare questi vaccini, ma abbiamo un problema. C'è qualcuno che imbarca adesso, dove se lo fa questo vaccino? Una domanda. Perché si è fatto la domanda sulla piattaforma. Oggi i marittimi che si può trovare a Genova, si può trovare a Palermo, si può trovare a Livorno, dove farà questo vaccino? Questa è una domanda che io mi pongo perché... Quindi ancora non è chiara la modalità organizzativa? No, hanno fatto solo questa funzione dicendo, guarda, vi abbiamo messo sulla piattaforma che siete fortunati. Prima eravate fantasmi, adesso vi abbiamo fatto vedere un po' che esistono i marittimi. Ma questo ci aspettiamo noi qualcosa di positivo e dire dove possono andare a fare tutti questi lavoratori. Tante persone, ancora oggi, che sono marittimi, sono tutti sparsi per l'Italia. Molti marittimi positivi stanno chiusi negli alberghi o nei vari punti in Italia, perché nessuno sa niente e che non interessa a nessuno i marittimi. Però io ci tengo a precisare che ci sono persone che hanno il Covid e stanno sparsi per l'Italia, che stanno facendo la quarantena. Quindi in questo momento quelli che non stanno navigando possono prenotarsi in piattaforma, ma come lei diceva prima, quelli che sono a bordo delle navi ancora non è chiaro come debbano fare per potersi vaccinare. No, questo ancora no. Aspettiamo qualche punto. Il SAS, che fa parte dell'organo dei marittimi, che dirà qualcosa, fare una bella letta e dire, guardate, tutti i SAS d'Italia possono unire i marittimi, sono stati prenotati e si vanno a fare il vaccino. Questa dovrebbe essere la cosa più semplice. E' più semplice. Monsignor Nicola Longobardo, prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha mostrato ai fedeli il prodigio del sangue di San Gennaro. Preoccupazione sabato, quando il miracolo di maggio del patrono di Napoli non si è realizzato. Dopo i canonici due tentativi della giornata, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto. Anche a dicembre il prodigio non era avvenuto, un evento che i napoletani considerano un cattivo presagio. Fortunatamente questa volta il sangue del santo è diventato liquido nella celebrazione di domenica. Questa mattina Monsignor Longobardo ha ripreso l'ampolla contenente la sacra reliquia per celebrare una funzione speciale. Mostrando ai fedeli presenti il sangue sciolto, ha dedicato una preghiera a tutti gli ammalati che stanno soffrendo, spesso soli e privi degli affetti. E per tutti gli ammalati che si sono affidati alla vostra preghiera, preghiamo. Padre nostro che se ne scevi, che ha santificato il tuo nome, lei per il regno, che ha fatto la tua volontà, come in cielo, come in cielo, come in terra. Dacci oggi il nostro padre quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi viviamo i nostri debiti e non ci abbandoniamo. Un conforto in un momento tanto difficile, un simbolo che possa portare un po' di luce a chi sta affrontando ore disperate. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta, frate donna, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziera di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un maresciallo del corpo in servizio in una compagnia partenopea e di un soggetto residente a Casoria. Le indagini sono state avviate dagli stessi finanzieri in relazione ad alcuni indizi concernenti episodi di concussione risalenti agli anni 2019 e 2020, ai danni di alcuni imprenditori del napoletano. Le fiamme gialle della sezione anticorruzione del nucleo, specializzate in investigazioni su reati contro la pubblica amministrazione, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno approfondito le informazioni raccolte a carico del pubblico ufficiale indagato, il quale, secondo quanto ricostruito, per non esporsi in prima persona, si sarebbe avvasso di un indiverso soggetto per minacciare alcuni contribuenti di controlli fiscali, da cui sarebbe potuta scaturire la chiusura o la sospensione delle loro attività commerciali. Le minacce erano finalizzate a costringere gli imprenditori a dare o promettere denaro o ad altra utilità per scongiurare conseguenze nefaste per le proprie attività. Sulla base del quadro indiziario finora ricostruito per entrambi gli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Nel contempo il militare, indagato anche per i reati di falso, calunnia e collusione in contrabbando, è stato immediatamente sospeso dall'impiego. Aiole abbandonate, erba incolta e rifiuti. È questa la situazione di abbandono che coinvolge una delle principali aree della città di Torre del Greco, il porto. In particolare ci troviamo nei pressi della scala che collega alla passeggiata del molo di Ponente. In questo punto i cespugli hanno raggiunto dimensioni considerevoli che ne impediscono e ostruiscono il passaggio. Aree verdi a redo urbano abbandonate a Torre del Greco, in particolare nelle aree del porto dove la vegetazione è ormai fuoriuscita dalle aiole creando cespugli di considerevoli dimensioni. Anche le strade di marciapiedi non sono da meno. Le aree per il passaggio pedonale sono occupate da cespugli e fiori che molto spesso costringono i pedoni a dover percorrere lunghi tratti tra le automobili. Le scale che conducono alla passeggiata del molo di Ponente del Porto appaiono in condizioni di abbandono. L'erba incolta occupa ormai quasi tutte le scale rendendo difficoltoso l'attraversamento da parte dei tanti cittadini che ogni giorno la percorrono. Una situazione di disagio anche in vista della stagione estiva ormai alle porte e con l'aumentare di avventori nell'area porto anche a seguito dell'allentamento delle normative Covid. Negli scorsi mesi aveva avuto luogo un'azione di diserbo stradale delle aree periferiche, trascurando però le zone centrali della città. Nel mentre, nel porto di Torre del Greco, stanno continuando i lavori di restyling e di arredo urbano. Proprio a pochi metri dalla vegetazione incolta, sono state installate panchine, fioriere e recinzioni di alcune parti della banchina. Arredo urbano che ad oggi è ancora non completo ma che vede già rifiute ed imbarcazioni depositate a ridosso delle panchine. Una situazione contrastante, da un lato il restyling urbano e la riqualifica di aree portuali abbandonate e dall'altra una cura del verde pubblico pressoché assente. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail alla nostra redazione all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti.